Would you go to bed with me? Sembra buono Dicono di fare il bonifico e telefonare Poi si parte subito Andiamo Bonifico effettuato Telefoniamo Lupinati Tour, buonasera Buonasera, abbiamo visto la vostra offerta sull'opuscolo ed abbiamo fatto il bonifico Avete fatto un'ottima scelta Abbiamo versato 500 euro Bene, avete pagato la prima delle 6 rate Ma per la settimana a Parigi? No, fine settimana a Perugia E chance l'isè, 4 stelle, si parte subito No, casa pensione Elisi, 2 stelle scarse, partite solo se c'è il volo Ma leggete le clausole Volevamo andare dall'Upinati Tour E siamo stati tourlubinati E adesso? Adesso lastminute.com e parti di sicuro